A tutto c'è un limite e ieri quel limite è stato ampiamente superato. Lo spettacolo del partenio Lombardi è stato indecente, vergognoso, al di là di qualsiasi negativa aspettativa. Perdere ci può stare, anche se incassare quattro reti dal Trassevere resterà nella storia, ma non così e per colpa di scelte tecniche incomprensibili senza alcun senso e logica. Archimede Graziani ha stancato, hanno stancato i suoi errori tecnico-tattici grossolani, il suo modo di fare presuntuoso, arrogante. Ha stancato il suo parlare male dei giocatori sminuendoli e ogni volta hanno stancato le sue mani di protagonismo e da scienziato del calcio, la sua totale mancanza di dispetto per la storia che questa città fortunatamente conosce e si tiene stretta. Ha stancato anche un po' Gian Andrea De Cesare che ieri non si è fatto nemmeno vedere allo stadio partenio Lombardi assenza pesante in una gara così importante, ma che comanda e dunque può cambiare il destino di un Avellino contestato da suoi tifosi, ieri mortificati e increduli. È tempo di cambiare prima che cominci il mercato, lo sa la dirigenza Siligas che nella serata di ieri ha analizzato i problemi e le difficoltà. Graziani alle ore contate, la valigia pronta. Chi arriverà al suo posto lo sapremo a breve, visto che nel pomeriggio è previsto un nuovo confronto. Ezzolino Capuano, che piace tanto ai tifosi, è stato contattato dal presidente Mauri e Loma non convince Musa e Alberani che non lo vedono in linea con lo Sile Siligas. Sile che interpreta meglio Salvatore Campilongo. Avellino la conosce bene, ci ha giocato e allenato e la categoria per lui non è certo una novità. Altri nomi che circolano sono quelli di Nello di Costanzo, che non ha mai nascosto il suo enorme affetto e la stima per la piazza e che spesso si è visto allo stadio, è Tiziano De Patre, a ex allenatore di Ancona, San Benedettese e Chieti. Ma questa volta non si può davvero sbagliare più. La società Biancoverde è chiamata a dare un segnale forte in linea, questa volta a differenza di quello che è successo la scorsa estate, anche con le aspettative e i desideri dei tifosi biancoverdi. È chiamata a scegliere un allenatore che riaccenda animi e desideri e giocatori nel mercato che si è appena aperto, che siano degni di mettersi addosso la maglia con quel lupo che è ferito, ma non certo morto.